Ciao amici di Prepper.it, oggi andiamo a iniziare una piccola serie di video per cominciare a impratichirsi con i nodi. Allora, cominciamo a vedere qualche nodo e partiamo da quelli più semplici. I primi che andiamo a vedere sono assolutamente for dummies, quindi tutti quelli che dicono io non sono capace, mi si intrecciano le dita. Ok, allora partiamo dall'assunto che vi sappiate almeno allacciare le scarpe. Ok, quindi se siete in grado di allacciarvi le scarpe, sarete sicuramente in grado di seguire tutti quanti i nodi che andremo a fare. Con una precisazione fondamentale, l'idea di questi primi video che vedrete proprio molto for dummies sono quelli proprio di cominciare solo a prendere dimestichezza con le corde, con le cime e incominciare un attimino a lavorarci. Molti dei nodi che andremo a vedere non è che sono sbagliati, ma non sono nodi particolarmente affidabili. Per avere dei nodi affidabili bisogna magari fare qualcosa di un pochino più complicato, quindi li vedremo dopo. Però per chi è assolutamente alle prime armi e chi non sa da che parte cominciare, cominciamo a vedere allora alcune cose molto semplici che si possono cominciare a fare per tutti quelli che non hanno il velcro sulle scarpe.